Ogni giorno che passa il governo Salvini mostra il suo vero volto, debole con i forti e forte con i deboli. Da un lato ricaccia i migranti in mezzo al mare e nega l'accesso ai nostri porti e all'ONG che trasportano un carico umano e disperato. Dall'altro strizza l'occhiolino all'evasione e agli interessi opachi, dichiarando che bisogna eliminare ogni soglia all'uso del contante. Insomma, il segno di questo governo è il segno sempre più a destra di Matteo Salvini. Grazie.